Torna la notte bianca weekend Salerno non edizione per l'appuntamento con lo shopping notturno dal 26 al 28 luglio promosso dalla Cidec e sostenuto dal comune e dalla regione Campania per favorire l'incremento delle vendite e delle attività del commercio, dell'artigianato e del turismo. Ma non solo negozi e locali aperti fino a notte fonda, anche arte, musiche, intrattenimento, gran finale poi da piazza Portanova con i Ditelo Voi e Ivana Spagna. Avremo tre serate importanti, inizieremo nella zona orientale il 26 a Villa Carrara, poi rimaniamo nella zona orientale con tre palchi esattamente la sera del 27 luglio. Avremo anche l'opportunità di poter ospitare la finale regionale di Miss Italia Campania insieme a tantissimi altri ospiti. Un evento per la famiglia e noi aspettiamo a Salerno veramente tantissime famiglie. Invitiamo tutti quanti gli amici e anche gli amici della provincia a scendere in città nelle ore di frescura alle 19, 19 e 30, alle 20, acquistare un bel capo d'abbigliamento, un bel paio d'occhiali, un costume voglio dire, e sorseggiare un drink e vedere se i grandi ospiti che ci sono. Finalmente ci saranno non solo artisti musicali ma ci saranno anche artisti da strada in varie traverse limitrofe, che era una cosa che avevano chiesto i commercianti a gravuce negli anni passati. Insomma sono quelle opportunità in cui non bisogna perdere, sono comunque delle opportunità e bisogna fare rete e sistema.